Brilla la stella di Samuele Bernardini al Super Bowl di Genova. Il pilota a magliazzurra Union Motocross conquista vittoria e titolo nell'ultima tappa valevole per il campionato europeo Supercross categoria SX2. Il mototurismo chiude ancora una volta la propria stagione con grandi numeri e annuncia le novità per il prossimo anno. In presa di Niccolò Antonelli, il pilota del Team Italia si aggiudica all'ultima prova del campionato spagnolo di velocità categoria 125 a Gerez della Frontera. I più importanti eventi motoristici del prossimo fine settimana. Benvenuti a una nuova puntata di FM Informa, il notiziero informativo della Federazione Motociclistica Italiana. L'apertura è dedicata al Super Bowl di Genova che ha regalato tante emozioni al pubblico presente e grandi soddisfazioni ai tifosi della magliazzurra. Davanti a un palafiera gremito in ogni ordine di posti, Samuele Bernardini, pilota a magliazzurra Junior Cross del Team UFO Corse, riscatta un anno travagliato andando a vincere l'ultima tappa e il titolo dell'Europa Supercross nella categoria SX2. Il pilota in sella la sua KTM dimostra sin da subito di avere la cattiveria agonistica giusta e l'atteggiamento di chi non vuol farsi sfuggire il grande risultato ormai a portata di mano e non sbaglia praticamente nulla, mettendosi alle spalle al termine della sua splendida gara il francese Gianni Sirsuti e l'altro italiano Tommaso De Petri, doppiando addirittura i due inseguitori. Bernardini riscatta con questo trionfo, frutto di quattro successi in cinque gare, una stagione non fortunatissima a causa di un infortunio rimediato nel mese di agosto al Mondialino di Cingoli. Il direttore tecnico Maglia Azzurra Junior Cross, Thomas Traversini, è contento dei risultati ottenuti e della crescita costante del pilota retino in questo 2011. Sì, ho fatto una buona partenza, nel primo giro ho cercato di andare via e dopo ho tenuto il ritmo fino a fine gara e ho vinto. La pista era molto bella, molto difficile in qualche punto e molto selettiva. Nella categoria SX1 è salito invece in cattedra, ma c'era da aspettarselo il grande campione australiano Chad Reed, che ha preso parte, insieme a Justin Barsia, all'unica tappa europea del supercross categoria SX1, regalando agli appassionati salti e prodezze di incredibile spessore. Sì, mi sono divertito molto. È stata la prima volta che effettivamente ho gareggiato nel supercross in Italia ed è stata una festa. Erano passate 6-7 settimane dal Nazioni ed ero stato in vacanza, quindi per me è stato molto bello tornare a vincere la gara con un risultato così grande. È stato davvero emozionante perché mi sono confermato in questo finale di stagione. Per la cronaca Chad Reed e Justin Barsia si sono spartiti le vittorie nelle due manche, mentre il titolo di categoria è andato al francese Cédric Superias. E parliamo adesso di mototurismo. Lo facciamo con un ospite studio molto gradito, Mario Alberto Traverso, coordinatore della commissione turistica. Benvenuto Mario Alberto. Salve a tutti. E ti chiediamo subito un bilancio sulla stagione 2011. Le cose sono andate molto bene. Sono andate meglio di quanto pensavamo, direi benissimo, in quanto pensavamo, visto la recessione economica della nazione, che avremmo avuto una contrazione dei partecipanti. In realtà abbiamo toccato un numero record mai toccato in precedenza di 115.000 presenze, che vuol dire un 20% in più delle presenze rispetto al 2010. Nei soli eventi di eccellenza abbiamo aumentato i tesserati del 53%, un risultato veramente notevole. Grandi numeri sviluppati quest'anno, ma tante iniziative anche che ci saranno nel futuro. Il futuro prossimo significa 2012, dove noi usciremo con un calendario, stiamo uscendo in questi giorni, che comprende 80 eventi di eccellenza, tra cui 20 prove del campionato italiano, un vero e proprio giro tra tutte le varie regioni d'Italia, 10 più 10 più 10 prove per le fasce interregionali, e cioè per un trofeo Sud Italia, Centro Italia e Nord Italia, e 20 grandi eventi della FMI, tra cui la Turchia, che abbiamo pubblicato in questi giorni sul sito federale. Ci sono anche molte iniziative però nel cantiere, nel futuro? Beh, certamente non ci fermiamo qua. Innanzitutto il turismo d'alta quota, che è un'esigenza che ci viene posta sempre più frequentemente. I tour in compagnia degli istruttori federali, cioè la guida sicura, il turismo internazionale portato in Italia, l'Italia diventa nel 2013 una vera e propria porta verso l'Europa dell'Est, con il mototour delle nazioni, che proporremo in FIM, e le grandi strade motociclistiche, con alberghi, esercizi pubblici, agriturismi, sponsorizzati o sponsorizzanti comunque l'attività motociclistica. Ringraziamo Mario Alberto Traverso per questo suo prezioso contributo. Il pilota del team Italia Gabrielli, già vincitore del tricolore 125 e bronzo nella tappa del campionato europeo, sale in cattedra nell'atto conclusivo del CEV, ottenendo una splendida affermazione. Nella classifica generale del campionato spagnolo, Antonelli ha chiuso al quarto posto, ma avendo disputato due gare in meno rispetto alla concorrenza, ha dimostrato di poter competere tranquillamente per la vittoria finale, esattamente come il suo compagno di squadra, nonché campione europeo Romano Fenati, che ha chiuso settimo nella generale con soli quattro gran premi disputati. Vediamo adesso un'importante notizia che riguarda il mondo del quad. Sul sito ufficiale del quad, fmiquad.it, è infatti online l'articolo in merito all'ottenimento della licenza agonistica anche in caso di disabilità. È stato istituito con un'apposita circolare il comitato tecnico in ausilio del medico certificatore, così da poter dare, diversamente abili, la possibilità di poter correre insieme ai normodotati per quel che riguarda la stagione 2012. Ed ora il programma motoristico del prossimo fine settimana. Genova, dopo lo spettacolo del Super Bowl e le premiazioni dei campioni italiani nel Supermote e Motocross, continua ad avere le luci della ribalta accese con lo spettacolo del campionato mondiale Enduro Endor, la cui tappa sarà valevole come prima prova per la stagione 2012. Oltre a questo appuntamento sono in programma due eventi, il trofeo Malossi dedicato agli scooter, che avrà luogo a Castelvetrano, e il trofeo Marecross Ligure 2011, che si svolgerà invece ad Albisola Superiore. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con FM Informa giovedì 1 dicembre. Grazie per averci seguito e buon weekend!